Dalle pratiche di accatastamento in generale sino agli immobili del Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara. Questo è l'obiettivo della convenzione, siglata dall'ente di Via Mentana con il Collegio dei Geometri della provincia di Ferrara. Intanto devo ringraziare gli ordini dei geometri e la fondazione che si è stata disponibile a questo incontro. L'esigenza di questo rapporto stretto con l'ordine professionale è motivata da diversi elementi. L'esigenza del Consorzio, noi abbiamo tante strutture accatastate da modificare, da riordinare e poi la nostra attività comporta modifiche sul territorio. E quindi avere un patrimonio di collaboratori, di professionisti che l'ordine ci ha segnalato è importante perché riusciamo a svolgere queste pratiche in termini più rapidi e anche c'è un elemento di trasparenza perché noi siamo un ente pubblico sostanzialmente e quindi dobbiamo affidare i nostri incarichi in un modo il più ampio possibile. Altro elemento importante è ovviamente una crescita professionale dei nostri interlocutori che conoscono, comprendono, lavorando con noi le nostre esigenze, ma anche perché soprattutto i geometri sono soggetti che svolgono pratiche per i consorziati sia pubblici che privati. Oggi possono essere tantissimi i casi, una costruzione, una concessione, la costruzione appunto di un garage, di una rete, di una modifica, un attraversamento anche di una nostra struttura. Quindi poter lavorare in questo modo qui permette al professionista di aiutare il privato nella realizzazione delle sue esigenze compatibilmente con tutte le norme e con tutte le esigenze anche del consorzio. Per questo martedì 29 settembre alle 15 in Sala Estense a Ferrara il consorzio incontrerà il mondo professionale dei geometri per un corso di formazione. In Sala Estense ci saranno i nostri funzionari, ingegneri, i quadri che si occupano in particolare per esempio delle concessioni, che spiegheranno come sono le procedure del consorzio, i nostri vincoli, le nostre modus operandi e questo riteniamo, come dico, che faciliterà il rapporto tra i due soggetti.